La Lazio a Parma non sbaglia, adesso la Juve è a meno uno, cioè ragazzi abbiamo trovato in questo nuovo video nel quale volevo parlarvi un po' di una gara che per i bianco celesti è stata molto tosta ma che alla fine Inzaghi ha vinto, però prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace e un commento e poi vi consiglio come sempre di seguirmi su Instagram e di iscrivervi al canale, per Instagram trovate i link in descrizione. Comunque la Lazio oggi ha vinto una gara in modo molto 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 maschio perché non è stata una partita facile, per loro è stata una partita molto tattica perché il Parma è stato molto bravo a fare una cosa, a bloccare le fasce alla Lazio e infatti comunque nel secondo tempo è dovuto subentrare Lazari per dare un po' di sprint alla manovra laterale della Lazio. Comunque nel secondo tempo i bianco celesti si sono quasi solo dovuti occupare di contenere l'avanzare offensiva del Parma visto che già alla fine del primo tempo erano riusciti a passare in vantaggio con il gol di Caicedo. La Lazio ha meritato di vincere ma se fosse finita in pareggio nessuno avrebbe potuto dire niente perché il Parma per me se l'è giocata bene, la Versa è stato bravo, l'ha preparata bene, comunque come detto ha chiuso le corsie laterali alla Lazio e questa è stata una mossa super azzeccata. Però comunque con la giocata del singolo, con l'opportunismo da attaccante vero di Caicedo alla fine la Lazio si è portata a casa tre punti che sono tre punti fondamentali perché potrebbe essere seconda da sola, questo lo vedremo solo più o meno alle 11 quando finisce il derby di Milano. Potrebbe comunque essere da sola e al secondo posto e comunque questo certo è a meno uno dal primato ragazzi e quindi questo è un traguardo incredibile se pensiamo che siamo a febbraio e quindi il campionato certamente non è iniziato ieri e nessuno ci avrebbe puntato un centesimo, nemmeno io ovviamente ragazzi sulla Lazio seconda in campionato a meno uno della capolista a febbraio. Però il momento cruciale per loro per me arriva a marzo perché quando la condizione fisica potrebbe cominciare a scendere lì si vede se la Lazio può seriamente ambire allo scudetto. Poi certo ragazzi adesso sono lì e quindi è ovvio che per il momento possono ambire al primato però per me il momento decisivo sarà tra marzo e aprile, quello più di tutti, quello più di tutti senza il minimo dubbio. Comunque qualcuno ha reclamato l'annullamento del gol per un tocco di mano di immobile, tocco di mano che sì ci poteva essere ma per me ragazzi il gol non è assolutamente da annullare. Nel secondo tempo partita veramente molto tattica, Stragoscia si salva in un paio di occasioni, Gagliolo spreca invece un paio di occasioni che sarebbero potute essere decisive per pareggiare il match e quindi come detto i biancoceresti si portano a meno uno dalla Juventus e decide una rete di Caicedo alla fine del primo tempo. Il video finisce qui, ringrazio per averlo visto, vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al Dito Voi, bravi canale. Ciao a tutti!